Il boato della Nord Scorrano al Riviera delle Palme al gol di Abonchelere sarà il momento più emozionante di una giornata memorabile che entra di diritto nel prezioso libro della storia rosso-blu. Il campo basso ispugna a San Benedetto del Tronto grazie alla rete del centrocampista francese e mantiene i quattro punti di vantaggio sull'Aquila. Corsara a basso Girardi, tre partite alla fine, un passetto in più verso il sogno chiamato Serie C. Stessa formazione, stesso assetto, stessa fame di vittoria. Per Golizzi non cambia nulla, si affida a chi ha rilanciato le quotazioni rosso-blu dopo il mini periodo di crisi. Lo studio tra le due big dura qualche minuto. Senigalliesi alza la mira di un metro dal versante sinistro appena fuori aria. Ritmi abbastanza blandi, i rubi non hanno fretta ma subiscono a tratti i cambi di gioco avversari. La prima vera occasione della partita è di marca marchigiana. Al diciassettesimo Cardoni approfitta di un intervento poco deciso di Lombari, costa al centro dove Scimia manda alto da posizione più che favorevole. Per Golizzi vuole i suoi più dinamici a centrocampo, De Cerchio sembra un po' fuori dalla manovra. Al venticinquesimo arriva anche il primo tentativo molisano con Maldonato dai 25 metri, tiro deviato in corner. La gara è difficile, si fatica a essere pungenti dalla trequartina su, meglio nei minuti finali del primo tempo. Impazziscono i campobassani al minuto 40 quando Lombari riceve a sinistra da Bonchelet. Mette un pallone morbido in mezzo dove si avventa con l'incornata lo stesso mediano che fa esplodere il settore ospiti e le migliaia di vifosi del capogliuogo e in tutta Italia. La Samba al cuse colpo, qualche istante dopo serve un miracolo di Asciotti sul tiro a colpo sicuro di Di Nardo su assist al bacio di Luis Maldonato. Riparte bene la squadra di casa che si affida subito al tentativo sotto misura di Tomassini sul quale è bravissimo a respingere di piede Esposito. Ma serve un altro miracolo del portiere che ha tu per tu con Senigallesi, abile a fare fuori mezza difesa, senza paura salva il campo basso con colpo di Reni Felino. Preme la Samba, lupi sugli scudi, nell'ultimo quarto d'ora spazio a Coquen che recupera un grande pallone. Avanza verso la porta ma si divora un'occasione colossale calciando sul portiere che lo ipnotizza. Sul capogliuogo di fronte Tomassini svetta di testa sul cross di Senigallesi e prende la traversa. Poi Fabrini a botta sicura trova il nuovo miracolo di Gonzales quasi sulla linea bianca. Un minuto da urlo, interessante poi la giocata di Coquen che con un tiro a giro passa poco dalla traversa, a dieci dalla fine. Il caldo si fa sentire, i crampi si susseguono. In pieno recupero Coquen sembra inapprendibile, col destro impegna severamente a sciotti, calcio d'angolo per respirare. Ma non succederà più nulla, il coppaccio è servito, la serie C è più vicina. Lungo la schiena degli innamorati dei lupi corre un brivido emozionante. Lungo la schiena degli innamorati. Grazie a tutti.